Bollettino neve, situazione impianti sciistici Camigliatello, info impianti sci da fondo Montescuro Abbondanti nevicate oggi, stanotte a Camigliatello si l'hanno, come potete vedere il corso principale di Camigliatello Comunque pulito dai mezzi spalanere, ma nei lati vedete abbondanti nevicate, ne ha buttato in paese circa 60-70 cm Come potete vedere abbondanti nevicate, le impianti sono perfettamente aperte, si scia, ancora sta nevicando qui a Camigliatello Silano Domani invece dovrebbe essere buon tempo, vi do un appuntamento alla prossima aggiornamento, sempre qui da Camigliatello Silano Carica anche la nostra applicazione su Play Store Camigliatello Sky, per restare sempre informato